Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati nella coppia di FIFA con Stefani Ciao ragazzi E oggi dopo aver vinto sul canale di Stefani con l'India e la mucca leggendaria Di Rage Quit abbiamo vinto Di Rage Quit ma proprio quelli lì di quelli lì pesanti Cioè avrà spaccato computer, schermo e joystick In questi saranno offesi E poi su quello con le mucche fai schifo Fai schifo non lo far mai vedere questa cosa Quindi cercheremo di nuovo di vincere con l'India Anche se è difficile ragazzi perché è una squadra una stella E poi sul canale di Stefani invece forse Useremo l'Irlanda Perché dobbiamo arrivare a 20.000 like sul suo video Quindi andiamo a cercare di risalire oggi Di oggi, di oggi E vediamo cosa succede Siamo ragazzi India contro No non riesco a capire Kermiti Cos'è? India contro India A me mi si bugga sopra e dice India contro India Zurigo India contro Zurigo Butta butta che gli favo il culo e gli mangiamo tutto il cioccolato a sti bastardi Dai 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 Cattivissimi con le mucche Il problema è che era messo in pausa e loro si stanno affappà Hanno già paura degli indiani Ma vedrai avrei paura anch'io con le strisce rosse e blu nella faccia Non so gli indiani d'America Sai che rispondo io Come abbiamo giocato prima Vai Eh Ugaz Beccatelo Te l'ho data Mamma mia Mamma mia Cos'era? Perché ti ecciti quando tiri e tiri le fucilate? Calma Mi sale il cuccioletto Non ti eccitare Dai butta su Bravissimo Bravissimo Uno Oddio le macche puniscono tutti Raga come gioca quest'India Guarda Pack Beunch Bellissimo raga come gioca quest'India Manco il Barcelona gioca così Cazzo Il Tiki Taka indiano non se lo scorda più nessuno Sing gole ad orde Quattro gole in due partite In due partite Non aveva mai fatto così tanto gol in tutta la sua vita Ah sono blu io Pensavo di essere il rosso Che cazzo fai? Tranquillo tranquillo Non ti agitare subito Guarda Vedi Ma no Non è neanche fuori Che tu sei un po' troppo sovraccaricato di energia negativa secondo me Ma non è vero Io sono un carico bene Sei troppo energioso Non lo so Il cambio Calma Calma Ho fatto il cambio anch'io Guarda Guarda Tua Te l'ho passata Perché non ti è andata? Non era un passaggio questo Sulla corsa ho premuto X Ma era non era Era la corsa Non era Era non era Cos'è successo? Calma ste Non ci sono Cos'è successo? Sei cambiata? Non sei più la stessa mucca Non ci dobbiamo fomentare Che ci purgano Ecco Ti è eccitato Non sono eccitato Dillo che sei eccitato Non lo so No Non è più il gioco No Basta Il rischio del culo L'hai rischiata L'hai rischiata 1 a 1 Allora Te la dico lì Proprio così Vinciamo almeno 3 a 1 Calma Vedi che Ti ho detto che sei troppo eccitato Ma cos'è? Tu sei calmo Guarda Il cambio Il cambio campo Mi può fare fermare Muendo Ma la smetto Di facciare la gente Il bello è che è anche buffo Vederli cadere Come dei sacchi di patate Cazzo Ecco là Il richiamo Il richiamo della giungla Anche se le mucche non stanno nella giungla Può darsi in India Sì Che sa infatti Fintrante ancora Buona Vai dentro Ci sono Buttamela larga Valla così Così Cosa No Perché hai fatto la finta Perché volevo spiazzarlo Spiazzarlo No dovevi tirare Porco di L'ho tirato Ma mia Lasciala Me l'ha trovata sul piede Ma direi Ma Ma la Sotto Piano Non hai specificato piano Dai Allora Stiamo facendo una buona partita Un buon press Stiamo facendo una buona partita mi piace non sballo trodata calvis cosa non ti ha dato il vantaggio dentro di kotal mio dio stavo sfondando le porte no raga dobbiamo vincere ce lo meritiamo sto facendo gli interventi paio mal di dell'argento ai tempi d'oro no era brutto dire tempi d'oro è troppo scontato bella così ma i gol fuori gioco ragazzi io io stavo sognando aveva fatto l'euro gol di aveva fatto un golo assurdo vi rendete conto cosa sopra ma dove cazzo è tirata ragazzi stiamo facendo le giocate manco in real madrid e c'è il galacticos indiani i vacchitos siamo bello bellissimo bello bellissimo bellissimo bacchia fortuna bacchia fortuna bacchia fortuna ci diamo in bellezza almeno sto primo tempo cavolo i vacchitos sono troppo forti i vacchitos guarda recupero di nuovo di roba soda di roba soda ma come giochiamo è il sinistro di questo ma schifo bene bene così adesso vogliamo il gol della sicurezza no qualcosa dai dai possiamo farci ragazzi a questi due tiri due gol noi siamo a pressa abbiamo preso pure un palo ragazzi sono data parco il cazzo parco il cazzo oh fallo 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 e sfondiamo no segnamente dammela sulla destra e sfondiamo non lo fare eh vabbè oddio sti strazzi dai uno due vai di là lo scambio signore il filtrante bello 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 no 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 non ci credo oddio che finta no era troppo forte troppo lunga ma ci stava stiamo giocando bene dai portiere se lo sei tranquillo no 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 te prego te prego no te prego no il gol della merda no e al portiere non la devo passare te l'ho detto ma il bello è che ho premuto tondo con tutta la forza che c'ha vivo eh ooo non lo sai fuori gioco non è fuori gioco toccala buona eh cosa? si chiamalo due giorni dopo dai chiamalo quando siamo sugli spogliatoi sugli spogliatoi contro sul mio canale fanno sti gol che gol è questo? il portiere cosa fa? guardatelo in faccia adesso cos'è? cos'è questa merda? questa merda di merda ma basta subito no 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 calma da ultimo uomo doveva essere espulsione tra basso calma di nuovo abbiamo provato di tacco non ci credo porti 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 raga questa è forse una delle partite più meritate anche se abbiamo l'india è l'india ma è meritatissima ed abbiamo giocato benissimo abbiamo fatto un calcio da real madrid quindi sono contentissimo superiamo i 10.000 like consigliateci la prossima squadra che potrebbe essere l'irlanda un'altra squadra particolare raga vogliamo provare a giocare con queste squadrette così che cerchiamo di fare un bel calcio anche quando i giocatori non lo non se lo possono permettere grazie step prima partecipato di questo video palla ha preso 6 ha preso 6 palla 6 il loro ha preso 8,5 palla inutile e noi ci vediamo a prossimo video ciao